Un attimo, un attimo mamma, un attimo. Ecco qua. Pronto? Pronto? Dottore Cotecchia? Mia figlia ha la febbre. Con chi parlo? Gargiulo. Dottore, ma non mi riconoscete? Chiedo scusa. Comunque sia tranquilla signora che ha un'influenza di stagione. E la gola? E come lo sa, scusi? Gliel'ho vista. Ah. E da stamattina che ha 38 e 2. Sono le 10 signora. Sì, ma che medicina le devo dare? Eh, nessuna per ora. Restiamo in osservazione. Nemmeno una tachipirina? Eh, se supera i 38 e mezzo, allora io... Proprio adesso? Proprio adesso cosa? Eh, proprio adesso ha superato i 38 e mezzo. Gli la stavo misurando. Allora? Procedo con la tachipirina? Signora. Fatto. Poi? Poi chi? Che aggiungo? Due etti di coppa, uno di provoletta e tre di gran biscotto. Signora, ma non sono mica il salomiere? Ma quale salomiere? Fermè, ma ho poco l'antibiotico, non ce l'ho da? Bravo, mamma. Dottor, l'antibiotico? Signora, se ho una forma virale, l'antibiotico non servirà a niente. Eh, vabbè. E come le passa la febbre a sta creatura? Con le magie? No, ma non c'è questo. L'antibiotico si ammarà a sta creatura. Sì, mamma, hai ragione. Quello perché la figlia non è la sua. Signora, stia calma. Sarà il sistema immunitario della bimba a combattere. No, no. Mia figlia non combatte. Allora, dottore? Augmentin? Va bene? Signora, le sto dicendo. Le ho dato augmentin sciroppo. Andava bene? Oh, signore. C'è chi l'ha dato? No. E mo' sputtavo quei sistema immunitario si metteva a fare a guerra. Cortisone quanto? No, mio Dio, no. Dottore, è per piacere. La mamma sono io. La vedo come sta male. Signora, per piacere. Il dottore sono io. Me la fa vedere anche a me questa bimba? No, non vi preoccupate. Dottor, preparatemi la ricetta che tra poco viene il mio marito e se la viene a prendere. Ah, signora, per piacere. Respiri un po'. E mi sta facendo venire mal di testa. Allora prendetevi una bella bustina di buprofene. Tre volte al giorno dopo i pasti. Grazie. L'antibiotico. Poma le capa. Faccio picchia l'antibiotico. Faccio picchia l'antibiotico.